Vittoria del mondo attraverso le portinerie. Flora, muro della fucilazione, boazeri svedese, tarsie, basso rilievo. Una lezione di architettura degli anni Sessanta Tardi, Vano del Portinaio. C'è posta per noi? Tarsie, neon, taglio. Rapido graffo, marmo nero, ragazza siciliana, ragazza siciliana con telefonino. Storia del mondo attraverso le portinerie. Televerudio Grazie. Grazie.